Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 con il petugio e anche il tuttino anche se l'acca anche se l'acca anche se l'acca anche ok, mettiamo a fare l'acca per il liste tepuk buono piaccia buono piaccia buono piaccia ci sono le stavano c'è 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 Upper c'è 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 die c'è 5 giorni Sampai bergangembe C'è un sacco 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 2 giorni Poi, ti ho apprezzato Poi, ti ho apprezzato Wow 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 Nagi dari nagi dong Jadi fran Hahahaha Sì, 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 sì. Cante, sì. Ma io c'è anche il bonga, c'è anche il naso. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti